Buongiorno a tutti da Autocazzaniga. Oggi vi andiamo a presentare questa stupenda auto usata che abbiamo in vendita presso la nostra concessionaria. Si tratta di una Renault Scenic. Il motore è il 1.5 DCI, quindi turbodiesel common rail di ultima generazione. L'allestimento è il top di gamma Luxe Dynamique. L'auto è uniproprietario, è del 2007 ed ha percorso 117.430 km. Le condizioni di questa auto, come potete vedere, sono pari al nuovo. L'auto sembra appena uscita dalla fabbrica Renault. Rispetta la direttiva CE, antinquinamento Euro 4. È stata regolarmente e scrupolosamente tagliandata nel corso degli anni e il chilometraggio è certificato. Chi volesse fare sua questa Renault Scenic avrà compreso nel prezzo un tagliando completo per consegna. Inoltre, prima di metterla in vendita, abbiamo sostituito tutte le cinghie di distribuzione, visto il chilometraggio, la pompa dell'acqua, anche i freni sono nuovi. Il colore esterno è questo stupendo nero metallizzato. Gli interni sono in tessuto antracite. Passiamo ora a vedere i numerosi accessori che ha questa auto, a partire dal cerchio in lega da 16 originale Renault, che vedete in questo momento. Abbiamo anche il sistema Easy Access 2, ovvero l'apertura chiusura senza chiave e anche l'avviamento senza chiave e con bottone start and stop. Passiamo ora a vedere l'interno dell'auto. Un'auto che si caratterizza per l'enorme versatilità e gli enormi spazi interni. Allora, passiamo innanzitutto a vedere i sedili avvolgenti, caratteristici del modello Luxe Dynamic, con il bracciolo centrale integrato. Abbiamo il volante sportivo, spegni pure la radio Francesco, il volante sportivo multifunzionale in pelle a tre razze. Abbiamo il climatizzatore automatico, la radio integrata originale Renault. Il cambio è a sei marce per ottimizzare i consumi e le prestazioni. Il quadrante, come tutti gli Scenic di ultima generazione, è digitale. Passiamo ora a vedere il discorso dei vari spazi interni, con i tavolini sul posteriore, la possibilità di modulare in tre parti le sedute posteriori e la possibilità, come potete vedere nelle numerose foto che abbiamo messo sul nostro sito dell'auto, di abbattere totalmente i sedili e volendo anche asportarli per formare un ampio vano di carico. Sui vetri posteriori questa vettura ha anche le tendine parasole. Fai Francesco ad esempio vedere come in una semplice mossa si possa formare un tavolino centrale posteriore e come successivamente vedete il tavolino centrale oppure addirittura alzare tutto il sedile. Un'ultima mossa che adesso non facciamo per ragioni di tempo è quella di togliere completamente il sedile. Rimetti pure il sedile a posto così facciamo vedere come in un'altra semplice mossa tutto torna come prima. Nell'auto sono presenti anche ampi vani portoggetti sotto i tappetini, ve ne facciamo vedere uno ad esempio, sia nella zona posteriore ma anche, fai vedere Francesco, davanti quindi sotto il tappeto dei dei passeggeri anteriori. Passiamo ora a vedere il motore dell'auto. Intanto che Francesco apre il cofano vi posso mostrare come questa vettura sia caratterizzata da un ottimo abbinamento di colori interni, distacco tra l'argento chiaro del pannello e l'antracite dei tessuti nonché la cromatura interna in alluminio spazzolato. Un altro accessorio che avevo tralasciato ma non di minore importanza è gli specchietti retrovisori esterni che sono elettrici, autosbrinanti e per di più ripiegabili elettricamente. Per quanto riguarda la ruota di scorta è di dimensioni normali ed è posizionata come tutte le Renault sotto la scocca. Facciamo una panoramica della vettura aperta. Ecco qui, guardate quanto è stupenda. Diciamo che chi farà sua questa Scenic acquisterà un'auto veramente pari al nuovo. Vi ricordo che compreso nel prezzo dell'auto ovviamente offriamo la garanzia totale di 12 mesi. Passiamo ora come avevo già accennato a vedere il cuore dell'auto ovvero il motore che è veramente tenuto in maniera impeccabile come del resto tutta la vettura. Chiudiamo pure Francesco tutta l'auto e così ci salutiamo riguardando una carrellata esterna della stessa. Ricordandovi che sul nostro sito autocazzaniga.com nella sezione Renault potete trovare una scheda dettagliata dell'auto con numerosissime foto particolareggiate ed una descrizione minuziosa della stessa. Facciamo un'ultima carrellata di tutta la vettura. Notate anche i fendinebbia che ovviamente non potevano mancare su un modello top di gamma come questo. Con queste ultime immagini di questa stupenda Scenic autocazzaniga vi invita a passare in sede a vederla e provarla per rendervi conto di quanto sia spettacolare anche dal vivo e non solo in foto e nel video questa auto da quanto sembri nuova. Con questa immagine della nostra Scenic autocazzaniga vi saluta e vi dà un arrivederci al prossimo video. Un saluto da Davide Cazzaniga. Ciao a tutti